I valori che noi mettiamo alla base della nostra aperitività qui nella nostra banca sono soprattutto l'attenzione e la cura verso la nostra clientela. Questi valori ci spingono a cercare soluzioni nuove ed innovative per tutelare i risparmi dei nostri clienti e per tutelare anche le cose di cui loro vogliono avere cura. Gunnebo ci ha aiutato in quanto garantisce un servizio di alto livello, di alta qualità pur mantenendo requisiti di sicurezza e di privacy notevoli ed elevati. Per noi Gunnebo è sempre stata sinonimo di sicurezza e di attenzione verso la clientela. Con Gunnebo condividiamo l'approccio innovativo, la filosofia di progettazione che mette sicurezza, tranquillità, privacy e sostenibilità al centro del processo di sviluppo. SafeStore Auto è un sistema innanzitutto nuovo ed estremamente pratico. In qualunque momento, per qualunque occasione, posso decidere all'ultimo di poter accedere alla mia cassetta di sicurezza e essere tranquillo. Quando finisco di lavorare posso venire in autonomia completa a depositare i miei documenti, i miei averi, qualsiasi ora del giorno della notte dopo cena e questo per me è molto comodo. L'accesso al sistema avviene mediante una tessera, un codice personale e l'impronta digitale del cliente. Il tutto garantendo la massima sicurezza di accesso e la tutela della privacy dei nostri clienti. Ti mette a tuo agio perché sei autonoma. Non hai bisogno del personale, non hai bisogno che la banca sia aperta. Quindi è bravi, è una bella innovazione. Abbiamo anche permesso ai nostri dipendenti di liberarsi da mansioni più amministrative, di controllo e di trasporto della cassetta, permettendo loro quindi di dedicarsi maggiormente al supporto della clientela, alla cura del cliente, che è uno dei marchi distintivi della nostra banca. La mia banca è stupenda, guardi, veramente, veramente. Non solo come professionalità, ma anche come accoglienza, come gentilezza. Mi sono sentita a casa. A presto. A presto. A presto. A presto.